Musica 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 Ieri sera al bar centrale hanno detto E non faccio nomi Che contro il Guastalla Basterebbe un pareggio Un caso Oh, statemi tutti bene attenti Io voglio Che la Borgo Rosso Football Club Questa squadra che io ho sollevato Dalla merda della categoria di lettanti Fino alla soglia della promozione Entri a testa alta Nella categoria superiore Abbiamo solo due partite Tutte e due fuori casa In terra nemica Dobbiamo vincere Ad ogni costo Anche a costo di sbreghè State attenti e ricordatevi Che quelli del Guastalla Non sono dal burdello Perciò niente storie Niente tattiche di attesa Niente fu niente Vincere Puttana della miseria Questa Cosa c'ha? Ma siete matti? Ma cos'è la vostra frenata? Dottore! Ma perché vi siete fermati? Ma Sorrenti Venga qua Cosa succede? Cosa c'è imbecilli? Il Presidente si è sentito male Il Presidente? Ma cosa succede? Avevo detto di restare a casa quel pestone Signore mio Dio Descenda su per vostre mani a sempre Amén Amén Permesso? Sono Benito Oh caro Benito Permette Monsignore? Ero in tipografia A parer mio il primo foglio della serie E sacerdozio ha un colore troppo accese e troppo forte Se permette Io vorrei bruciarlo Perché non vada in mano di qualche speculatore Bravo Benito Brucia brucia Ma accomodati Stai pure Non è di questo che ti volevo parlare Ti ricordi di Don Ragazzoni? Ah già già Tu hai lasciato la Romagna che Don Ragazzoni non aveva ancora preso gli ordini Trent'anni fa partì da Borgo Rosso di Romagna Il borgo natio di E tuo padre? Sono trent'anni che non vedi anche lui? E' dal 46 che non lo vedo Monsignore Quando avevo la scarlattina Me lo ricordo vagamente perché avevo la febbre alta E lui si fermò pochi minuti per non incontrare mia madre Lo sa che mia madre e mio padre Benito Benito è giunto il momento di dimenticare certi malintesi Non sono malintesi Monsignore Ma dei fatti concreti I torti di mio padre io non li posso dimenticare Benito Pochi minuti fa mi ha telefonato Don Ragazzoni Per dirmi che tuo padre è stato colpito da un infarto Non è la prima volta Però Forse potrebbe essere l'ultima E in questo momento il tuo preciso dovere di figlio e di cristiano Il tuo posto E' di stare accanto a lui E Devi convincere anche tua madre Ad accompagnarti figliolo Io posso anche dimenticare i torti subiti Ma mia madre no E sono sicuro che lei non metterà più piede in quella casa Dove è stata tanto fesa e umiliata Se non ti sbrighi cretino Quella vacca si frega anche le lenzuola E sono sicuro che lei non metterà più Quanto le devo? 4.900, dottor Va bene Mamma, 4.900 Grazie, dottor Tenga pure Grazie Ciao, caro Buongiorno, dottor All'animaccia tua Ci vengono pure dal Vaticano Ma che gli hai lasciato le cento lire? Mamma, sono andate nel tombino Ah, si paga? Ma che ci vengono pure dal Vaticano? Ma che ci vengono pure dal Vaticano? Vedi? Quello è il monumento all'eroe Baracca. Ah, sì, lo so, mamma. Mi ricordo, era nei quaderni di scuola, mamma. Fiorente la campagna qui, vero, mamma? La frutta è meravigliosa. Infatti, la buttano. Sono chilometri che facciamo, mamma. Non abbiamo trovato un cane. Davvero? Nessuno? Non un cristiano. Ma dove saranno tutti, mamma? Ma dove è la gente? Hai ragione. Ci sarà un'epidemia. Ecco, siamo arrivati. Questo è Borgo Rosso. Ah, anche questo è un paese deserto. Ma dove si saranno intanati tutti, mamma? Mamma. No, no. Camillo Fornaciari Chi era, mamma? Il bisnonno rivoluzionario Mamma! Mi permesso? Permesso? Il vecchio studio del papà Sai, mamma, non lo ricordavo a pianterrino Mamma 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 Ma qui non c'è nessuno Forse l'avranno portata all'ospedale Oppure due ragazzoni ha esagerato Mancherebbe anche questa, che sia guarito Sai, mamma, che la casa non la ricordavo mica Così grande, bella, calda, accogliente Odio questa casa Il babbo, mamma Sì E che cos'è? Una salumeria? Disgustoso Dici? Non c'è nessuno? Permesso? Senti che odorino Mamma! Ma che fai? Sfido che gli vengono gli infarti Guarda che salama da su Ma non ti vergogni Sipione? C'è qualcuno, mamma Un po' Sipione Scusi, reverendo Dica La signora Amelia Cara, lasci stare Ma allora tu sei Benito? Sì Non ti ricordi di me Benito? Sono Don Regazzoni Benito Caro Don Omleto Che piacere rivederti Assomigli moltissimo a tuo padre, sai Meno male che sei dovuto in tempo Meno male Ma dov'è? È di sopra purtroppo Porre che questa volta sia la volta buona Io volevo Benito che voi faceste la pace Tuo padre è un bravo uomo Per fortuna che siete arrivati in tempo Gliel'avevamo detto di starsene buono Ma è molto grave Purtroppo figliolo mio Tuo padre è il cuore stanco degli uomini passionali Oh Sipione, come andegna? Male, sempre uno zero Poglia la vigliacca Che c'è? C'è che stiamo perdendo Ma chi saranno? Ma la moglie e il figlio A destra signora Venito 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 Certo la casa dopo tanti anni Se permettete vi faccio a strada Scusate Da questa parte Cos'è? Ecco torno in cronaca E perché? Allora sto proprio male Se è arrivata la cornantia A muoverti Il tuo posto è qui Signora Meglia Per l'amor di Dio Ma dove va? Non l'ha vista? Quella svergognata Sì l'ho vista Ma le sembra proprio questo il momento Scusate Il meraviglio di lei Ma che dice? Torno dopo trent'anni E la trovo ancora lì Come? Ma Ma quella non è la Dalgisa Ma no La Dalgisa Poveretta è morta da tanto di quel tempo È stato l'anno che la Fiorentina Ha vinto il campionato Per la prima volta Si figuri Quella lì l'Erminia La nipote Scusi un momento Pronto con chi parlo? Ah sei tu Pasolini Dimmi Voglia di una miseria Un'altra linea laterale A fondo campo Clos Clos Un magnitico ballone Giorgetti Giorgetti secondo È uno struto Xaiel Niente Cosa vuol che ci sia? Non fai gesuita Cos'è che si gassica? Oh Amassa il celerino a pareggiare No Eh Ma ha telefonato Pasolini adesso E mancano pochi minuti alla fine Porca miseria Insomma Se non pareggiamo siamo fottuti Addio promozione Herminia Sì Di Eclenbazdelli dell'allenatore Di far uscire Giorgetti il secondo Fai entrare e passa l'acqua Pierino Fai uscire Giorgetti E fai entrare e passa l'acqua Che dice? Eh? Il presidente Che devi fare presto No no Il Giorgetti il secondo Non lo cambia Se non lo cambi Tu lo cambio io Ma l'allenatore sono io E non posso permettere Ma è una bestia Sì sì C'ha ragione lui Sforza Sì presidente Sì presidente Alzati su Scaldati bene Coglite la tutta Ecco così Venga All'attacco in Bastel Ecco Appena entrato in campo Passaracqua si chiedono la mischia Con tutti Permetti signore Sono il ragionier Braglia Mi occupo dell'amministrazione Un grande cuore sospeso Che battono un'isono Con un grande cuore Del suo amato presidente Ma di che la smetta Di dir pataccate Non facciano resta al centro Allarghi nel gioco Così non passeranno mai Va bene presidente Trasmetto l'ordine All'allenatore Tu saresti benito Sì Ma come sei bianco Ma sei ben brutto Com'è Domenica prossima Si decide il campionato Vado io il panchino Vi faccio vedere No Oh figliac la miseria Porca vacca schifosa voglia Pronto 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 Cosa c'è? Il presidente Cosa dice il presidente? Non dice più niente Se sei in grado di capire Io ti assolvo dai tuoi peccati Nel nome del padre Del figliolo E dello spirito santo Amo Sì sì In sesta pagina E con il maggiore lievo tipografico possibile E l'istata a lutto Mi raccomando Signore mi scusi Un minuto Una telefonata La servo subito Porti pazienza Il titolo La morte di Libero Fornacciari Valli Presidente del football club Borgo Rosso Sì Il testo Con Libero Fornacciari Valli Scompare un grande sportivo Una figura esemplare Del calcio romagnolo Industriale Illuminato E di successo Aveva profuso Tutte le sue energie E tutto il suo entusiasmo Per potenziare Il Borgo Rosso Football Club Nell'animo Di tutti gli sportivi Oltre un gran senso Di voto Per la dipartita Del suo presidente Urge una domanda ansiosa Chi prenderà il suo posto? Chi sarà il nuovo presidente Delle zebre Bianco-nere Del Borgo Rosso E anche noi ce lo domandiamo Chi sarà? Io Io glielo assicuro Ragioniere Non ho mai visto Una cantina così bella Le botte erano La grande pressione Di suo padre Insieme alla squadra Di calcio E anche insieme a Deve capisse Deve capisse Vero professore Sì sì La capisco perfettamente So a cosa allude Anzi a proposito Mi dica ragioniere Sì Quella donna Lei sa di chi parlo Vero? Vuol dire dell'Erminia? Sì Quell'Erminia Penso che sarebbe il caso Di farle capire Che qui lei Non è più gradita Però professore Non so se sarà facile A sostituirla Vede queste ragazze Hanno un rendimento Eccezionale Che ha permesso Il rilancio Dell'azienda Perché mentre suo padre Si occupava solo Della squadra di calcio L'Erminia Mandava avanti La cantina Ecco professore Questo era il suo ufficio Sì Prego Vede? Eh vedo Vedo Ma sembra più La sede di una società sportiva Che l'ufficio Di un'azienda vinicola Guardi lì Com'era felice E quando il borgoro S'entrato in promozione Ma è da l'ora Che sono cominciati i guai Prima uno Con 10 milioni Se la cavava 10 milioni Le sembrano poche Molti Ah ma allora guardi qui Suo padre ha speso Niente meno che 30 milioni Per comprare queste tre tanghe Ma è una follia Ma certo che è una follia Ma lo vado a dire Un po' i tifosi del Borgo Rosso E qui il paese Sono tutti tifosi A cominciare da Don Regazzoni Che la domenica Dice la messa Scappa e fuggi Per poter correre A vedere la partita Ma lo sai Quanta montano i crediti Di suo padre Verso il Borgo Rosso No 157 milioni Avanti E' permesso Scusi Dovrei parlare Con il signor professore Di cose private L'aspetto di la professore Se crede Possiamo fare un salto Alla cassina di Tredazio Prima di colazione Quello che devo dire Al signor professore Non gli farà perdere Molto tempo Prego Si accomodi No Preferisco rimanere in piedi Senta professore Lei sa chi sono io E sono certa che sa Quali erano i miei rapporti Con suo padre No Veramente Sono stata la sua donna Per vent'anni E gli ho voluto molto bene Ma sono stata sempre Al mio posto Sapevo che aveva Una moglie e un figlio E che un giorno L'Erminia Se ne sarebbe dovuta andare E' la legge Di questo paese Ma non mi lamento Sono stata felice Con suo padre E lui con me Però adesso Se la mia presenza Le dà fastidio Non ha che da dirmelo Me ne andrò anche di qui Cara signorina Lei mi ha parlato Con molta franchezza E molta sincerità E io Devo essere altrettanto franco E altrettanto sincero Si E' vero Poco fa Dicevo a ragioner Braglia Di volerle informare Che lei qui Non era gradita Ma entrando in questo ufficio Ho cambiato idea Adesso sono io Signorina che le dico Sarei felice Se lei rimanesse qui Al suo posto D'accordo Ha fatto che lei Non mi chiami più signorina Va bene Come vuole Adesso Beh Che cosa fate ragazze Al lavoro Sono 24 ettri di terreno E nella colina esposta Al sud Sono tutti i vigneti Oddio Certo dovremmo rinnovare le vite Suo padre Non aveva già parlato Per avere il contributo Del piano verde Con Bulgarelli Bulgarelli Dice Mi ricordo Questo nome Salumificio Bulgarelli E' diventato sindaco Quello vede professore Farebbe carte false Per diventare presidente Del borgo rosso E perché? Oh per vanità Per ambizioni Per interesse Ma anche per ragioni elettorali Suo padre Poteva diventare deputato Con la popolarità che aveva Senta com'è buono Questo vino Profuma di mare e di ginestra Come diceva il suo poro Babbo Ah senta A proposito di Babbo Ma lei mi assicura ragioniere Che il borgo rosso Pagherà questi 157 milioni Sicurissimo Li ha già pagati Vede Il borgo rosso È O meglio Era Di proprietà di suo padre E adesso è suo Perciò lei è creditore Verso se stesso Di 157 milioni E beh ma allora una beffa Lei tasti il terreno con Bulgarelli E se lui a fine campionato Rileva la squadra E io ci sto Se lei mi autorizza Io tratto Ma i consiglieri Che cosa dire? Eh non si preoccupi ragioniere Pensi a vendere la squadra Che agli altri Ci penso io Il ragioniere Brali è uno stronzo Te lo dico io Ma questi che fanno? Beh si allenano La partita di domenica prossima È decisiva Se si vince Andiamo in serie D E tutto questo L'avrebbe costruito mio padre? Tutto Tutto Ogni centimetro cubo di cemento Ed ogni sdolla d'erba Tutta opera sua Lo immaginavo diverso papà Cioè? E cioè Diverso Cosa volete che vi dica? Vuoi conoscere i giocatori? Noo che conoscere Sono tutti sudati E poi che potrei dire io ai giocatori? Ah senti Benito Domani c'è una partita Che vinciamo di sicuro Andiamo in serie D E la squadra vale il doppio Perciò devi dare un grosso premio di partita Un premio? Cento mila lire a tetta No 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 Aspetta Ragazzi venite qui Sotto Vediamo Vediamo Cento mila lire a tetta Cento mila lire Per uno eh Va bene Grazie Prego prego Fare fare Per carità Anche lei il lutto? Io sono partiere Ah mi rallegro Grazie professore Prego prego Grazie professore Ah me la sto cavando benissimo sai mamma Non avrei mai creduto E non avrei creduto che i vigneti fossero così belli sai Li conosco Ma quella donnaccia l'hai licenziata? No mamma non ancora Devo essere prudente Devi cacciarla Sì mamma la licenzierò al momento opportuno Stai tranquilla Adesso sai mamma devo preoccuparmi della squadra Ah Il sindaco farebbe carte false per diventare presidente del Borgo Rosso È una mania Ma io la faccio soffrire Mamma La cosa è sorprendente È che sto diventando un furbacchione in affari Tra poco torno a Roma Sposo Alice e vi porto a fare il giro del mondo Voglio che tu sia ripagata di tutti i sacrifici e i torti che hai subito Ma perché parli così? Ah c'ho una caramellina in bocca Non mangerai mica troppo eh Stai attento alla cucina di quelle parti È una cucina grassa pesante Tu col tuo fegato poi Ma certo mamma stai tranquilla La sera una minestrina in brodo Un uovo alla cocca Prugne a cotte? Sì grazie che me lo hai ricordato lo dirò a tuo padre Prugne a cotte Prugne a cotte Ciao figliolo e torna presto prestissimo eh Non preoccuparti mamma Telefona tua ad Alicia Dille che la penso tanto Ciao bacione a tutti mamma È una bottiglia di San Giovese del 54 Ma è una squisitezza Sì fammi sentì Beati gli invitati alla mensa del signore Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo Oh signore non sono degno di partecipare alla tua mensa Ma di soltanto una parola e io sarò salvato Avanti chi vuole fare la comunione Dai sbrigati tu Si sposti E che è? E che succede? Avanti presto Il corpo di Cristo per piacere signore avanti un'altra Il corpo di Cristo vada via signore avanti Il corpo di Cristo vada via signore per piacere Andalà fammi piacere Presto Vada vada Io vado Don Omeletto ci vediamo allo stadio Vai vai figliolo vai Scusi reverendo mi permette un'osservazione Ma lei non celebra una messa Lei corre Corro sì non li senti quegli scalmanati là fuori Cosa vuoi che arrivi tardi quando la partita è già incominciata? Ma una messa sarà più importante di una partita no? Certo che è più importante Io la ricco ridotta Sì ridotta sì ma non saltando le pagine Perché lei leggendo il Vangelo secondo San Matteo punto 10 16 22 Io vi mando come pegore in mezzo ai lupi E saltando niente di meno al fratello dar a morte il fratello Beh che cos'è figliolo non mi vorrei mica raccontare che sai tutti i santi evangeli a memoria Sì tutti Ah allora vorrà dire che la prossima volta dovrò stare più attento Andai Benito va là Insorgeranno i figli contro i genitori e li metteranno a morte A morte l'arbitro a morte Vado in campo Sai se qualche giocatore si fa male Ciao Ecco Benito questi sono i nostri poli Attenco Dove? Vieni Ti voglio presentare il signor Armando presidente del Celerina Ah Benito può facciare E che ricco è il migliore E chi è il migliore? Il Celerino naturalmente Ma che fa questo? Eh? Lo dite presidente Ecco Grazie Grazie Questi applausi sono anche per te Bravo Forza via Amassalo Amassalo Forza Forza Ma che è successo? L'abbiamo segnato Mi dispiace Ma l'abbiamo segnato Attivano E levati con gli occhiali neri Non ho detto che l'avresti portato a scarola Giuseppe Sei il bello Sei il bello Sei tipo se anche tu Ma va Ma questo non è un bambino È una pezza Venite entusiasti Forza 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 Contro attaccato Che cosa si è fatto male Che cosa si è fatto Ma tolfura Arbitro Che di qualcuno è Fori 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 Ecco anche il primo Deci sto tricco Sporto sfige Revelendo Quando si fa male un giocatore Che succede? Da un po' di tempo Secondo il nuovo regolamento Quello può essere sostituito Con un giocatore fresco Un gol così non lo vedevamo da anni Ma cos'è? Vuoi prendere il cuore Proprio Ma la parte di Giuseppe No E' bene Entusiasmo sportivo E' lo sfogo degli stinti animali E' scherzi E' scherzi Ma ce ne vogliamo andare Revelendo Ma dove vuoi andare? Via Ma che ci stiamo a fare Tanto abbiamo vinto Ma non abbiamo vinto Manca ancora un tempo In che mondo vivi? Tra poco finisce il primo tempo Attento Via quella palla Via Allora Ci va a dare una lavata di testa a quel pecorone Andiamo giù negli spogliatori Sì andiamo Mettiti qui Dove è venuto? Oh ma ce l'hai Volevo cometto Vedrai che culo ti facciamo Dica mamma tua Vi siete fatti fare un culo così? La scalzone caroignone Pesce di merdo Asino E lei stia zitto A te ciancolini ti ha fatto andare in bambola Guardi che mi ha fatto presidente Non voglio vedere niente Guardi guardi Ma stendilo vigliacco Stanchi eh E lei cosa sta a guardare? Cosa crede di aver vinto? Vedrà che rasse di culo le farebbe Ma non avete altre parole? Sudati eh Uno sforzo tremendo Mi levi una curiosità signor arbitro Perché lei corre tanto? Potrebbe evitare di correre Non è più comodo stare su quei seggioloni Come al tennis per esempio? Ma lei è la prima partita di calcio? Sì è la prima e l'ultima Guardi prego Si accomodi allora Si accomodi pure Si 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 accomodi Tenete l'avversario sempre sotto controllo Il grande segreto del calcio è qua Pierino Oh Ma l'ho trovato Se l'ha andata a cacciare Negli spogliettoide gelerina quello lì Di due parole ragazzi Io? E che devo dire? Tanti auguri ragazzi Ma cosa dici? Disgraziato Non dov'io figliolo E non lo so Che devo dire? In bocca al lupo Ma no Ma no Si dici il culo alla balena Gira gira Sempre sto culo Guarda ragazzone Ma che è in cazzo Su avanti A te pordere Andiamo Vengono Di croce Andiamo Su Ma glieneva più Come è percorso Muoversi Forza Andiamo anche noi Andiamo 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 Ehi Che fa Ecco questo è il distintivo Ma in maniera questa Ti assistono a una partita di calcio Andiamo 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 Ma chi è Lei non sa chi sono io Sono delle bestie mamma Indescrivibile Proprio delle bestie Uno spettacolo agghiacciante Veramente indecoroso Io ho resistito solo il primo tempo E poi Ho lasciato tutti E me ne sono andato disgustato Che c'è via l'alizia Come te la faccio Sì? No dici? Meglio di no E' venito Non mangiare troppo E non bere Mi raccomando L'hai licenziata quella? No ma non ancora Perché adesso la cosa più importante È sistemare la squadra Del Borgo Rosso Football Club Con la vittoria di oggi poi È passata nella categoria superiore Se il sindaco Bulgarelli Vuole diventare il presidente Mi deve sforzare Più del doppio Di quello che ha speso il povero Babbo Tu pensi solo ai soldi Ma sei proprio sicuro Che abbiamo vinto? Nel primo tempo vincevamo a 2 a 0 Nel secondo tempo figurati Si saranno scatenati La lascia ora Eccoli mamma Stanno arrivando Ti lascio Eccomi amici Venite Prendiamo la vittoria Che fate lì? Venite su Quanti gol abbiamo segnato? Due Bene E il celerina? Tre Bene Ma che abbiamo perso? Sì Ma i mortacci vostri Dunque veniamo solo So che lei ha parlato Con il ragionier Braglia Sì il ragionier Braglia Mi ha detto che lei vorrebbe Disfarci del Borgo Rosso No Disfarmi non è la parola adatta Semmai io voglio cederlo Naturalmente a persona degna Di poter subentrare Al mio povero Babbo Credo modestia parte di esserlo E spero che nessuno ne dubiti Per carità Dunque Ho studiato la cosa Con il nostro Ragionier Braglia Sì Sono disposto ad accettare La presidenza del Borgo Rosso Football Club Sì Assumendomi tutte le responsabilità Della gestione della società Bene Naturalmente dal giorno Della morte di suo padre In poi Come dalla morte Per il passato Per il passato Ci mettiamo una barra Pietra sopra Ma che pietra sopra Mio padre ha speso una fortuna Soltanto per gli spogliatoi Le gradinate La tribuna centrale 50 milioni E per la squadra Solo tre giocatori L'anno scorso Locococchia Forlain-Bordon Sa quanta spesso 30 milioni 30 milioni 30 milioni 30 milioni I giocatori non vagano 30 mila lire Ma che lo dici? Lo dico io che me ne intendo Ma i consiglieri invece dicono Che sono molto bravi Lasci dire professore Lei è circondato da incompetenti Da sanguissiughe che la sfruttano Come sfruttavano suo padre Io le parlo onestamente E per dimostrare la mia simpatia Le faccio un'offenza di 10 milioni 10 milioni Ma neanche il costo del terreno Andiamo Terreno? Ma il terreno Caro professore Del comune Del comune? Certo E per ogni opera Existe un regolare atto di donazione No Si 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 Ha ragione lui E pensi che figura ho fatto io Col sindaco Bulgarelli Ma lo sa ragioniere Che neanche il terreno è nostro E suo padre era affezionato Al suo campicello Per ragioni sentimentali E non ha badato E non ha badato Mio padre era affezionato Al suo campicello Per ragioni sentimentali E invece io no E poi lei scusi Le cose importanti Non me le dice E questo chi è? Mi dice soltanto Che abbiamo bisogno Di finanziamenti Per rifare i litigli Permettete? Sono Valentino Zucotto Vecchio amico Ed estimatore di vostro Ah lei vuol parlare Con il ragioniere Braglia No 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 Il ragioniere Braglia Mi scusi Non lo voglio vedere Manca in fotografia Io sono qui per parlare Con voi professore Io e il vostro povero babbo Avevamo preparato Un piano per il rafforzamento Della squadra Senta non mi parli di calcio Io ne ho piene di scapoli No nessuno può capirvi meglio di me Sono vent'anni Che mi occupo Della compraventità Dei giocatori Perciò lasciatemelo dire Conosco perfettamente Questi stati Diciamo così depressivi Ma poi passate il momento Della rabbia Per la sconfitta Tutto la possione No Il calcio mi fa schifo Socialmente però È una valvola di sicurezza Il calcio fortunatamente Non è ancora Nella lista delle droghe Vediamo che ce lo mettano presto Comunque guardi Io non ho nessuna intenzione Di comprare E nemmeno di vendere Come vendere? Lei ha un parco giocatori La maggior parte Sono delle schiappe Però se lei mi autorizza Potrei cercare di vendere Quei 4 o 5 Che sono meno schiappe Chiude la porta per favore Ma come qui Si possono vendere i giocatori E lei non dice niente Ragioniere Ma a me il calcio Mi fa schifo Ma che fa ripete? Zuccotto La prego Sei straordinario Venito 32 milioni Per 4 ragazzotti È incredibile E questo è niente mamma Il Zuccotto Che è veramente un esperto E un amico Mi ha promesso Che mi trova da vendere Anche uno dei terzini Briga di venito A ritornare a casa E quella la poi L'hai licenziata? No mamma Non ancora Mamma non è una cattiva donna È molto utile in ditta È una gran lavoratrice Sai? È una puttana Mamma Non ti ho mai sentito dire queste brutte cose È una puttana 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 A lui non gliene frega niente Gli basta far quattrino Ma non è possibile Pierino ha già telefonato le notizie al giornale Domani la legge Ma di cosa state parlando? Benito ha venduto bondavalli C'è rompe Non si è gara Ma è un passo No è un mascalzone No quello è un sabotatore Ha rovinato una squadra Che stava per andare promozione Ma non glielo si può impedire Ma che impedire impedire Quello coltello dalla parte del manico La società sua fa quello che vuole La colpa è di Bulgarelli Che non ha cacciato i soldi Me l'ha detto il ragionier Braga Bulgarelli è un sacco di merda Cosa vi aspettate da quella mazza porci? Costituiamo una società per azioni Ci quotiamo tutti E ricompriamo i giocatori Ma è inutile illudersi Per il borgo rosso è finita Ci vorranno cinque anni Prima di rimettere No no Non bisogna arrendersi Bisogna fargliela pagare A quel gesuita Hai sentito? Il presidente ha venduto i giocatori più forti Ma è un cretino Ma contro i suoi interessi Ma la dottor Xella Scueta l'ha mai più ognì È un colpa di testa Mi hanno telefonato adesso da Bologna Dal giornale La notizia è sicura State tutti a sentire Amici Amici Con cittadini La Lega Nazionale Poiché la commissione medica Ha trovato nelle urine dei giocatori del Celerina Tracce di anfetamine Ha in virtù dell'articolo 8 decretato Che il Celerina Football Club Venga penalizzato di 10 punti No 10 punti Bene Bravo Intanto Il Borgo Rosso passa in testa la classifica Ed entra di diritto Nella divisione superiore Bravo Corro ad aver chiuso il sindaco Signor sindaco Signor sindaco Che c'è? Il Celerino è stato squalificato Il Borgo Rosso promosso Mi prenderei a schiaffi Potevo avere il Borgo Rosso per un pezzo di pane A schiaffi mi prenderei Prendere sti a schiaffi eh Il sogno di Libero Fornacciari È diventato una realtà E lì no Razzini Ma se i giocatori più forti non ci sono più Eh già E adesso abbiamo una bella squadra per la serie D Maledetto Sì è vero Ve l'avevo detto Che bisognava buttarlo fuori a pedate Ah sono proprio soddisfatto Ragioniere Che le cose le abbiamo sbrigate Così rapidamente bene E questi ragionieri chi sono? Boh Dove essere qualche comizio volante No no Questi ce l'hanno con noi Io tiro su Con noi Sì Che volete? Non capisco cosa dicono Stanno insultando il professore Dicono delle parolacce A che vogliono? Ve ne approfittate Perché sono preso qua dentro Prendetevela con il sindaco Bulgarelli No Perché non gli spiega lei Ragioniere Sì 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 Fermatevi Fermatevi Dove andate Oddio Oddio mamma mia Ragioniere Ci pensi lei Ragioniere Io scendo da casa Ti parte lei Permesso Fermi Scusi Scusi Permesso 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 Scusi Fermi Fermi Permesso Stati a casa Scusi Grazie Più 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 Stai dietro Presto, 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 presto Presto, presto, spangate la porta, non fate le persone Dov'è il telefono, che devo chiedere per il porto Giù, è entrato Prevento, ho visto il presidente No, cerchiamolo Pronto, casa forneciare valle La casa di tuo padre sarà la tua tromba Dov'è il prestito? E a me lo chiedete E lei chiedevi difenderlo, no? Se lo prendono l'inizio, no? È sparito Sparito, cercato Tornerai a Roma col carbone, prevento Mi ordino ad interrompere la linea, sono il maresciato Anzi, venite per me, si quasi di dietro Allora, via Venite, noi passiamo di qua Pronto, pronto Non c'è nemmeno in cantina Forse di sopra Cercatelo di sopra, allora Scala, fate forse della scala Lasciate libera la linea, è un ordine Sopra non c'è Non guardavo anche il suo filetto, ma non c'è Ma è finito Venito, dove vai? Erminia, Erminia vado a prenderlo Presto, venite Chiudete la porta Armi Presto Armi Benvenite Benvenite Passate i cervelli Professore, venga fuori Lo so che è qui L'ho vista salire Professore Dirello, farlo sul posto Oddio Fermatevi 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 Il trovo della volezza Fermatevi Fermatevi Sto da fare salva la sopra Mi ordino di fermarvi Fermatevi Infazzite, fermatevi Posso nell'armario Eccolo, signora Professore Ma cosa fa lì dentro? Che faccio io qua dentro? Voi mi ci avete messo Io non so niente Che vogliono quelli là fuori da me? Lei è un disgraziato inconsciente Vuol far scoppiare la guerra civile Io non voglio far scoppiare niente Siete voi tutti matti Io che centro Ma venduti giocatori Certo, erano miei Io ereditati da papà Per l'ultima volta Indietro o sparo Indietro 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 E per quattro scantinati giocatori Si fa la rivoluzione Ci amassano tutti Ci amassano tutti Hai paura, eh? Ma riferesti veramente Che ti dessero un sacco di botte? Ma perché sei un pusillanime? Ma la colpa è mia Non dovevo lasciarti crescere In mezzo a quei bretaggi Papà, ma che devo fare? Ricorda il nome che porti Affacciati al balcone La folla è femmina Ama farsi fottere Uomini e donne di Bordo Rosso Generosa e fedele Ascoltatemi Ascoltatemi Mi parlo a nome di mio padre Un gruppo di traditori nascosti nell'ombra Vuole impadronirsi della gloriosa squadra Che fu del mio grande, illustre e indimenticabile genitore Beh, adesso non esagerare Venite Gettando il seme della discordia E provocando la vostra feroce ma legittima reazione Mi si accusa di aver ceduto i punti di forza della squadra E beh, a questo punto permettetemi di guidere Che punti di forza? Dai brocchi Degli incapaci Che hanno mostrato sul campo la loro codardia Di che cosa dunque mi si accusa? Io ho cercato solo di interpretare le vostre aspirazioni Che furono anche quelle del mio grande padre Preparare per voi tifosi un Borgolosso nuovo Potente Invincibile Ecco il punto Perché ho venduto? Perché voglio comprare Voglio rinnovare tutto Allenatore e giocatori Tutto Voglio che i bianconeri del Borgolosso Possano un giorno diventare una squadra di autentici campioni Sembra di sentire parlare in me Ecco quello che ho fatto Se ho sbagliato Io sono qui Punitemi Ma se siete d'accordo Rispondete un sì Sì Posso contare sulla vostra collaborazione? Sì Sì Sulla vostra fiducia? Sì Sì La mia donna di Borgolosso Sulla vostra abnegazione? Sì Sul vostro entusiasmo? Sì E allora il mio cuore e il vostro Dovranno battere forte all'unisolo Per la grandezza e per le sempre più altamente Del nostro Borgolosso Fumalte Oh 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 Erminia Bianconeri del Borgolosso Rosso 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 Bianconeri del Borgolosso Rosso rosso Fumalte Chi è? Fumalte 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 Attendono con particolare ansia Per il ciclismo oggi è tutto E veniamo al calcio Come sapete la campagna acquisti del calcio è in piena attività E noi stiamo appunto per collegarci con Milano In particolare con Hotel Gallia La tradizionale sede della campagna acquisti dei calciatori E qui i presidenti che vanno e vengono I presidenti sono i veri protagonisti Una loro stretta di mano può valere a volte come un vero contratto Ecco vedete un gruppo di tifosi in ansiosa attesa di notizie E qui a volte si decide la sorte di un campionato E va Mi aspettavo Fatto comiaggio presidente Lei conosce tutti Buongiorno E questo sarebbe il favoloso Hotel Gallia Lei ha già parlato per il nostro borgolonismo Se non parla Zuccotto fa Forse possiamo fare un gran colpo Bene facciamolo Locatori non posso dirvi molto ma sull'allenatore Ah c'è la tv Aspettate Questa le nevo va solo il cretino che salita E il chi che tu rendete il chi? Senti per favore prima di mettersi seduta spegni il televisore Non posso più sentire parlare di calcio Mamma volevo vedere la trasmissione per le forze armate No 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 spegni per favore Supererà il limite dei 15 miliardi Ma mamma Ma è benito Benito Ma l'hanno detto E' un hotel Gallia Stava comprando i giocatori Vendendo Ma se fa avanti Andrea Siamo il presidente del Borgo Rosso Football Club Ma me ne frega niente Il vaga dentro e rompami i bari Ciao mamma Veniamo alle ultime notizie Ciao mamma Allora sotto la fotografia Metti la didascalia che adesso ti detto Sì Il professor Benito Fornaciari Metti fra parentesi Il nuovo e dinamico presidente delle zebre bianconere Non va da spese Sì Pur di assicurarsi la collaborazione di un famoso allenatore Colpo grosso del Borgo Rosso Il nuovo allenatore è il famoso italo-peruviano Jose Bonservizi Stavolta si che ci siamo eh Genei Ah mi scusi Bonservizi Chiamalo mister Sì Ma sei sudamericano Ma è un po' tazzo Scusi mister Possiamo essere sicuri degli acquisti vero? Lei mi ha dato carta blanca e dorma tranquillo E i giocatori quando li potrà vedere? Ah il 15 d'agosto ora sono tutti di vacazione al mare E al mare ci vado anch'io E chi non lascia più questo stregone? Lei si sarà domandato perché ho accettato la direzione Di una modesta squadra come il Borgo Rosso Già perché? Come perché? Voglio fare la rivoluzione La rivoluzione? Non si preoccupa Noi sudamericani amiamo molto la rivoluzione Ah ah e la vuol fare in Italia la rivoluzione? La rivoluzione calzifica Ah meno male Calzificamento parlando Ecco vedi quelli Quelli sono Moschino San Carini Bet Ghezzi E il grande Omar Sivori E che fanno qui i giocatori? Vengono in vacanza ogni anno A l'obergo di Ghezzi Ah E scusi mister ma Lei Omar Sivori lo conosce? Sicuro E me lo presenterebbe? Come no? Si Omar Omar Vene qui Che fenomeno mister Ti presento il presidente del Borgo Rosso Sono molto onorato di conoscerla Molto lieto Veramente molto lieto Come presidente di una piccola squadra di provincia Io non sono abituato all'incontro con i divi del calcio Grazie a stare per piacere Senta mi levi una curiosità Omar Ma come mai gli arbitri quando lei giocava lo spalificavano sempre? Bueno io credo che sia dovuto alla vivacità di Napoletano Ah Per esempio Loro davano il cornuto all'arbitro E quello se la prendeva sempre con me Buona questa Chi è quello? Chi? Quello E' il grande allenatore buonservizi Allenatore di che? E' allenatore di calcio De calcio? Si Io non lo conosco Come si è permesso di chiamarlo? Mi scusi infinito Omar Scumetto che Sivori le ha detto che non mi conosce E si mi ha detto proprio che non la conosce Vede? Un mucciaccio li ha tirato su da niente e mi riniega No Non se la prenda mister Il campionato inizia come sapete in questi giorni la sua lunga vigilia Comincia in particolare la stagione dei ritiri Quell'abitudine di preparazione collegiale Il campionato inizia come sapete in questi giorni la scuola E' il campionato inizia come sapete in questo mondo Benvenuto signor Presidente Hasta la vista caro mister, eccoli Los muchachos, Antonio, Francisco, Giuseppe Eccoli il nostro nuovo acquisto, bene Carmelo, Luis Scusi mister, ma lei mi aveva detto Giovani, Gagliardi, Forti, questo non è un po' troppo anziano E ma io dicevo giovani calzisticamente parlando E poi questi hanno famiglia e poco dinero Perciò hanno la grinta di quelli che hanno fame Los giocatori sono come toreros Si hanno musci di nero, hanno paura del toro, claro? Clarissimo Bufiano Bravo Vincenzo Bene Sicito Piacere Giovanni Bravo Nicolino Mario Ecco l'altro acquisto Sergio Bene E il nostro associatore Trinca Tagliardo Ci siamo tutti Ma anche ciò lo guardava caro Celestino Maria Ah, Uga, d'orche l'oest puntuale, non mi gusta Ma come si è permesso Mister, mister Qui là Chi? Mi sono fermato a colazione a Ferrara Mia moglie aveva fame Tu sei capace senza dire niente a me Mi sono sposato questa mattina E tu te sposi prima di iniziare il campionato Hai sorpreso la mia buona fede Lei era al corrente Oh Hai sorpreso la mia buona fede Si penso io Celestino, Celestino Mi hai dato un grande dolore Prometto mister, non lo farò più Non te creo Promessa di caporale Senta un po' Venga mister, scusi Dica un po' mister Ma Quello Chi è? Celestino Maria Come chi è? Vabbè Celestino Maria Ma che è un giocatore? E su quattro giocatori Non ho idea Pure cinque per questa Ma c'ha anche gli occhiali In borghese Quando gioca Mette le lenti a contatto Come Stiles Il mediano dell'Inghilterra Che stiles Ma non è un po' troppo grosso Per fare giocatore C'ha la parte Grossissimo Infatti non gioca Non gioca Non gioca Ma con allenamenti Non agno Lo faccio dimagrire 40 kilos Promesso che diventerà Un campione Promesso e mantiene mister Promesso e mantengo Muchas gracias Hablo spagnolo Hablo spagnolo Un pochito mister Celestino non mi aveva detto Che si ripartiva subito E di fatti le resta Come sarebbe a dire? Tutti gli ocatori Vanno in ritiro Per una quindesina di Dias Le resta con le moglie Degli altri ocatori Magna Beve Dorme Topo pagato dal nostro presidente Todo Non è scontenta? No 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 è scontenta Ma è scostumata Sta signora Ma lei sa che ogni giocatore All'inizio del matrimonio Rende la mità Ma allora non deve vedere Quel vitellone Neanche in fotografia Secondo Vengo Vengo Mi permette Mi permette Signor presidente Prego Mi permette Vengo Vamos Ma lo sapete come chiamano i giocatori Come li chiamo Per nome Come i brasiliani E beh fare il presidente Con quello stregone È un gioco da ragazzi Vamos amici Di corsa Vamos Volevo fare lui il presidente E adesso si ruota il fegato Però Come stai signora? Bene grazie Modio Modio bene a me Ecco io l'ho fatta venire per una cosa molto importante Riguarda Benito Sì sì Bene E poi poi le spiego Adesso meglio strada facendo signora Venga da questa parte Per piacere Il nuovo acquisto dei giocatori È costato complessivamente 64 milioni Il presidente dice Tanto sono cambiali 64 milioni E inoltre l'allenatore Ha preteso 38 milioni anticipati E un contratto di tre anni La situazione finanziaria Comincia a risentirle signora E io che non ne sapevo niente Sì Per telefono mi diceva sempre Che tutto andava a perfezione Ha fatto bene a farla venire Sì 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 Ha fatto benissimo Soltanto lei gentile signora Può mettere un freno Le pazzie di suo figlio Sa La squadra è in ritiro Con il suo terdozio Fortuna che i giocatori Sono dieti Se no ripulirebbero La dispensa In due giorni Ecco Adesso lei Si può rendere conto da sola Quello è il pullman nuovo E questa è la nuova macchina Del presidente 7 milioni e 318 mille lire Dipinta espressamente Con i colori sociali Delle squadre 7 milioni E 318 mille lire Oddio E della sua mercenze Che ne ha fatto Cosa ne hanno fatto Gentile signora L'hanno distrutto A furor di popolo Oh Mo il presidente Si era allegrato Perchè dice che era Più adatta a un prelato Che a un presidente Di una società di calza Non avrei dovuto mai Lasciare solo mio figlio In baglia di questi Forzennati Ma lui Dov'è Tudine Arsdora Chi è Sora Tudine Cosa c'è Dov'è le presidente E' in allenamento Con il borgo rosso L'è là L'è là che v'è E' là Guarda E' il sistema Che lei vorrebbe adottare Mister Qual è L'esercizio fisico Più adatto A ciascun Nugatore De calza Buono Mamma Mamma Che bella sorpresa Mamma Ma perchè non mi hai avvertito Che sarete venuta Ma figlio mio Come ti sei conciato In tuta di allenamento Mamma Grazie ragioniere Di avermela portata Ragazzi a tavola A tavola Con le pronte maniere Vieni mamma Qui accanto a me Attenti ragazzi Ringraziamo il signore Per il cibo Che anche oggi Se hai voluto darci E domandare Nel signore Lo spirito santo Amen Seduti Grazie Cosa ci porta di bello La tutina I turtelen I turtelen A proposito Mamma Guarda Questa è una dieta Che il nostro mister Ha imposta alla squadra E' una tabella Basata sui carboidrati Dai 60 ai 40 punti giornalieri Pensa che è stata studiata Scientificamente dalla NASA Per gli astronauti Figurati Perché? Devono andare sulla luna Quelli? Altro che sulla luna Questo ci manda al campo santo Vado Foghi a te Pensa mamma Che i turtelen Sono 25 punti Perciò i giocatori Devono accontentarsi Di mangiarli soltanto Con gli occhi Vero mister? Claro Estos Para vosotros No existeni Beh Vi farò ridere forse Ma In mezzo a questi ragazzi Io Scusa mamma Ma per la prima volta Mi sento veramente in famiglia Non so se mi spiego padre Meglio di quanto tu non credi Mio caro Il tuo povero babbo Lo diceva spesso Guardando i suoi ragazzi Questa è la mia famiglia Mamma ho scritto A Monsignor Montanari Gli ho spiegato anche Tutte le caratteristiche Della mia attività E con quanta serietà Io la svolgo Ho dato le dimissioni mamma Dimissioni? Spero che lui capisca Che le accetti Ma non vorrai seppellirti a Borgo Rosso No mamma In Vaticano ero sopolto Qui sono rinato a nuova vita Ma non vedi che altra faccia che ho Ero tutto bianco Celestino No desesperari No mira nei platos De los otros Hai finito di comere erba? Va a fare questa situazione Scattaro Anda Anda Io ho fame Ero proteste Mamma Guarda Vedi quel bambinone Di 130 kg Ero proteste E guarda paccaro 22 milioni l'ho pagato 22 milioni E beh Magalotti del Ciranina Me ne ho offerti 30 Io neanche per 100 glielo do Mi ha promesso il mister Che quest'altro anno Dimagherirà 40 kg E diventerà un panzer d'attacco formidabile Più di Norda Sai mamma Il gioco del calcio Si è amministrato bene Un investimento di capitale Formidabile Il 100% ci si può guadagnare Ombres jugadores La commida è finita Inizia il trabacco Anda Anda E arribe il corso Che fortuna Essermi assicurato un allenatore così Lo stregone lo chiamano Anda Anda Mira Signora Todina Siento d'ora da rossa Si mi permiten Muchas gracias Venite Ecco qua su Che lui ha il suo sacrario Pensate che il mister Si è fatto arrivare dall'Europa E anche dal Sud America Tutte le pubblicazioni sul gioco del calcio Passa le notti a studiare Ed ora amici Ho una sorpresa per voi Et voilà L'abbiamo fatta arrivare apposta dall'Inghilterra Figuratevi Permesso? Ecco adesso io vi mostro come funziona È un mezzo moderno Che permette di programmare a casa le partite Ecco prendiamo tre birillini Che poi sono tre giocatori I nostri attaccanti della Borgo Rosso Bene Chiamiamoli calcisticamente A B C A Passa B Che si sposta rapido nella posizione B1 C invece avanza nella posizione C1 Ecco la posizione ideale per tirare in porta Ma temporeggia E poi passa la falla B Che dalla posizione B1 Si sposta nella posizione B2 Gabbando gli avversari Passo, tiro, calcio, rete, gol Non è formidabile? Vabbè E gli avversari? Che avversari? Gli avversari devono subire Le dispiace accompagnarmi alla stazione? Ma non doveva parlare col presidente? A me il presidente come lo chiama lei non dà più retta Saprò io a che rivolgermi a Roma Sentirete parlare di me in questo cesso di paese E avviene tutto automaticamente E l'automatismo si ottiene con questi esercizi Volete vedere? Venite Venite Vedete? Servono a coordinare i riflessi muscolari con quelli della psiche Vedete? Venti Lo chiedo perché io veredo Sacrificio Sforzo Abnegazioni Esta è la vita dell'ombra jocator Non si preguse Rilassa il tuo nervio Sierra il pugno Pensa l'estate se viene l'inverno Mister Che me si svegliano Uno Dos Tre Tranquillo Lo chiedo Si accomodi Desidera signore Monsignor Montanari La signora fornaciare i valli e la nipote Si accomodi Monsignore in questo momento ha un incontro molto importante E' questione di una decina di minuti Precisamente dodici Con permesso Alicia Devi essere decisa con Monsignore Si mamma Gli dirò zio Dopo vent'anni di fidanzamento Benito deve decidere O la sua squadra di calcio o me Altrimenti io rompo e vado in biazza Molto bene Zitti pensate a giocare Ad arbitrare ci penso io Avete stretto i due Punizione di seconda Via Ma quello Monsignore Tuo zio anche lui Mamma Credo che andrò in biaffra Non doveva lasciarla partire mia madre Ragioniere Mi scusi presidente Ma lei conosce meglio di me e sua madre E non credo che ci sia qualcuno capace di fargli cambiare idea Purtroppo no Se non c'è riuscito mio padre Che con tutto il rispetto era un uomo Lo so ragioniere Non c'è bisogno che me lo ripeta Povera mamma Lei penserà che io sia diventato matto Ma se ne accorgerà Apri tu Sipione Sarà Pierino Ribaldi no Quello arriva sempre prima di cena Mai dopo Dovrebbe firmarmi questi cambiali presidente A che servono? E' per il rinnovo di quei 18 milioni scontati al credito agrario Speriamo che ce lo concedano il rinnovo Certo che lo concedano Qui alla signora guardava caro E che vuole? Parlare con lei E fallo accomodare in studio Che dicevamo ragioniere? Di trasferire i depositi in un'altra banca Appunto Ma i depositi alla banca agraria sono esauriti da un pezzo E ci sono tante altre banche che c'è soltanto il credito agrario Sono momenti difficili presidente Le banche non concedono più prestiti Non fanno più crediti Ragioniere se ne occupi lei Lo sa che io non sono addentro a queste questioni amministrative E se no lei che ci sta a fare? Scusi Beh io cercherò di fare del mio meglio E vada Sì vada A domani Buonasera signor presidente Buonasera che bella sorpresa Posso essere utile in qualche cosa? Vuole accomodarsi? Una sigaretta? No grazie Lei mi deve scusare se io lo disturbo a quest'ora Ma non ne posso più Celestino ha detto di rivolgermi a lei che è così buono E quando l'ha visto? Non l'ho visto Sono stato a tre dossio ma Buon Servizio mi ha cacciato via Non me l'ha fatto vedere neanche da lontano Bene Buon Servizio ha fatto il suo dovere Ma si rende conto signora del danno che può arrecare a suo marito Disturbandolo durante la preparazione? Disturbarlo? Sì Ma dica è mio marito o no? Beh Prima di sposare lei Suo marito ha sposato il borgo rosso lo sa? Ah quindi sarebbe bigamo? Ah vuoi scherzare lei vero? No guardi proprio no sa Anzi le dico di più Se mio marito non fa il marito Io lo denuncio per abbandono di tetto coniugale E denuncio anche lei per sottraussione di persone Suo marito ha firmato un regolare contratto signora Ma nel contratto c'è scritto che mio marito deve giocare a pallone Non che non deve Lei mi capisce vero? Certo signora mi rendo conto della sua situazione ma lei è sposata da pochi giorni Undici giorni E allora signora faccio finta di non essere sposata e continui a fare la fidanzata Magari Prima di sposarci facevamo l'amore Adesso che siamo sposati non lo facciamo più Tutti i giorni? Ah anche di più E beh si riposi signora E poi si renda conto che non è la sola in questa situazione Pensi alla moglie degli altri Ma che le altre non interessano? Io ho 19 anni sa Sciorbole E lei ho 19 anni cosa faceva? Io ce l'ho il tipo signora Oh signor Presidente la prego mi aiuti lei? Mi aiuti Cosa vuole che le faccia signora? Dio giorni di permesso a Celestino No mai Su Celestino il Borgo Rosso punta tutte le sue speranze Questo ragazzo può diventare un grande campione Dipende dalla sua benecazione No oh signora Signora che fa? E che fa? Tu? No signora non faccia così Si l'aiuto ma ammazza con la tua pesa che la patra a Scipione Andiamo signora sia buona perché fa così Si riprenda sia forte e colaggio Rialgisca non si abbandoni Signora guarda ma caro non faccia così Che cos'ha? Che si sente? Non respiro Non respiro Non respiro Non respira signora guarda ma caro Aria 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 Si è sentita male sai Ne sto praticando la respirazione bocca a bocca L'ho imparato in televisione Ancora? Ancora aria cara? Respirazione bocca a bocca Vedi quante cose si imparano in tv Andiamo bestiunti Borgorosso passatore due punti Bis Pascoli Borgorosso pareggio Seguro Seguro Borgorosso essenzio Vittoria facile Due punti Seguro Borgorosso pareggio Porchè? Se vince Se vince Il Trebbiano è debole sulla sinistra Se vince di segura Due punti Metti due punti Va beh Va beh Col Trebbiano si deve vincere Borgorosso Garbino due punti Segura Se non vinciamo Borgorosso due punti No 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 Questo non è sicuro No no il Sanluca in casa è un leone Non è sicuro Non è sicuro Segno un punto Un punto Un punto Un punto Borgorosso due punti Perchè se non vinciamo Siamo delle schiappe Non vinciamo lei la cavità Totale 51 punti Evviva Vengeremo il nostro girone ragazzi La promozione si aspetta E noi la convinceremo Borgorosso 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 Bianconeri L'amiraglio Nelson Prima della battaglia di Trafalgar Disse ai suoi uomini L'Inghilterra aspetta Che ognuno di voi Faccia il suo dovere Perciò io vi dico Tutta Borgorosso aspetta Che ognuno di voi Faccia il suo dovere Andiamo Bruciacios Ammilos dedos Chino lotta con coraggio Non si merita l'ingagio Chino lotta con vigore E' peggior di un traditore Vedi Vado bene Vado Ciaccio Caccio Caccio Buongiorno Sono il presidente dell'Albano E che vinca il migliore Si è il migliore Orgolosso Chiariamo che vincono Guarda Guarda, ecco Questi attaccano subito Che cazzo che chi è? Bianconei del bar Albano Non faiare la palla E' un infortunio della difesa Che vuoi che sia? Ma la difesa Ma la difesa me lo preoccupa Sentirà adesso che musica Adesso attaccano Certo che è difficile Giocare con una squadra Che non conosce le regole Del gioco del calcio Scusi tanto, signor presidente Siamo una squadra di poveretti E' questo che impedisce Al calcio italiano di progredire Ecco Voi dovinano un passaggio Va bene, si Le partite non si vengono Vengono al centro campo Ma questo è un asedio Vieni, vieni E' buono, ecco Ma fino a quando devo sopportare questo? Perché tutto ha un limite, vero? Ma vedi che succede? E' colpa della difesa Non parlare durante la partita Mi scusi mister, ma Da quel che ho capito Allora lei aveva prestabilito Che noi avremmo perso Se lo dico, presidente E il risultato non mi preoccupa Va bene, si Scusi mister, se la interrompo Però una cosa abbiamo notato in molti Che mentre i nostri erano distrutti dalla fatica Alla fine gli altri erano freschi come rosa Lo confermo E il sanno vi sei già super allenato Mentre la mia teoria è che Los giocatorios Devono entrare in forma poco a poco Ma Sarenti, mi meraviglio Ma proprio tu che sei medico Ma non lo sai che se i giocatori lo sforzo Lo fanno troppo presto Poi finisce che ne risentono Esatto Ma santo cielo Uno sforzo che dura un'ora e mezza E una volta alla settimana La cosa più pericolosa È prendere la testa all'inizio del campionato Se diventa la squadra da battere E di conseguenza Se crea una tensione spantossa Questo non solo logora i muscoli Logora anche los nervios Ma allora mister Se ho ben capito Noi dobbiamo fare il cane E non la lepre Esattamente Perché la lepre finisce in salmì Eh però bisogna pigliarla la lepre Per metterla in salmì Scusi mister Mi dica ma Lei non crede che nel secondo tempo Si poteva far giocare guardava caro Cosa disse? No dicevo No no E il mucciaccio non è ancora tonto E poi non dobbiamo scoprire le nostre batterie troppo presto Guardava caro E se il nostro lasso non è una manica Ciubbotte Tagliaci Sì Se non era palero un gol da manuale Magnifico Sì d'accordo Ma prendono sempre i pali E se te presi Siamo ma se io promesso Mantengo E il Borgorozzo avvenzerà la prossima partita Seguro Vabbè Seguro Vabbè La defensa ha manovrato noi bene Abbiamo perduto solo per un autogol E' stata una sfortuna Caro mister Sarà come lei dice Io la stimo Guardi questi giornali Lei non è legge Ma non sei in tiente di calcio Se fiacca Lo dicono tutti La defensa ha fatto un solo error purtroppo E abbiamo perso la partita Se no era palero un gol seguro Se sto palero I gol contano Che pigliamo Lo che conta E' il gioco di squadra Ma quando comincia La rimonta Noi stessi una squadra Che ha bisogno di terreni pesanti Sul pesante Sera irresistibile Ci fidiamo di lei mister Ben Ceres Mi farò l'ordine Sconfitto in casa Anche dalle Celsior Il Borgo Rosso Ha toccato il fondo Della classifica La situazione non è più critica E' decisamente drammatica I tifosi sono in fermento Che cosa si aspetta? Si domandano i sostenitori Della squadra bianconera Per prendere quei provvedimenti Che anche il più sproveduto Dei dirigenti Capirebbe che sono Non solo Necessari Ma indilazionabili Vero? Che fa? Prova lei? Anche voi? Brave! Ma presidente! Beh? Che fate? Anche voi ce l'avete con me? Ho fatto quello che avete voluto No? Volevate i giocatori Li ho comprati Volevate lo stregone Cento milioni mi è costato La bossina a Mazzallo E' colpa mia Se la squadra Continua a perdere A chi devo ringraziare? Gli amici di Borgo Rosso Venito stia a sentire Posso dirle una cosa? Suo padre quando la squadra perdeva Si domandava In che cosa ho sbagliato E trovava la risposta E il rimedio Era un grande presidente suo padre Avrebbe meritato un Inter Un Milan Una Juventus La Roma La Roma? Eh La Roma non se la merita nessuno Senta Erminia Mi facci il favore Si sieda Mi aiuti Mi dica cosa devo fare Perché io credevo di conoscere il calcio E invece non so niente di niente Questa è la verità Meno si capisce Meglio è Non si tratta di capire il calcio Ma gli uomini Ma che cosa sono i giocatori? Sono i ragazzini E' inutile fargli tanti discorsi Ogno di ferro ci vuole Iniezioni di entusiasmo E di fiducia Suo padre si che sapeva come galvalizzarli Prima della partita E li teneva chiusi a tredozio Come polli nella stia E se quelli si lamentavano Diceva Se avete voglia di fottere Fotetevi il palone E aveva ragione Perché io non so se lei sente la stessa cosa Ma Quando il palone entra in rete Uno si sente dentro di sé Faccia come faceva suo padre Non dia retta a nessuno Prenda le rete in mano E non risparmi la frusta Mi sente? Sa cosa deve fare? Per un nostro signore E in arrivi il nostro presidente E il nostro mecenate Che si tratta con tanta generosità Allegra anche voi ragazzi Mi raccomando Presidente Che sorpresa Ma non credo che sia tanto bella Ragazzi Fuori c'è un pulmo che vi aspetta Vi do cinque minuti di tempo Per prepararvi a venire con me Dove vi porto scusi? Nella stia Nella stia Non comprendo Fregone che lei capisca un'ora Ma io me ne frego Vuoi restare di qui signore Sempre a spese mia Si intende Andiamo ragazzi E se sarà il signor presidente Emanuele il diritto di offendermi Davanti alle molte dei giocatori Io neanche gli risporto Io vorrei essere la mia ambassata Aspeti che stella mare di Stabia lei Quale ambassata? Al mio consolato Che fate voi? Io ho dato cinque minuti di tempo E sono già passati tre Via Nessun si muoveva Ragazzi io lo conosco Il pronunciare Sono i più di cinque minuti Sono dolori A posto Andiamo Ma cosa fai? Ma un'altra volta Eri si ruffa Tanto che ci rimetti Siamo noi E adesso per vederci a destino Mi tocca aspettare fino a lunedì Noi restiamo qui in clausura Speriamo che duri solo qualche giorno Se perdono Preparati pure il vestito da vedova Ora e me Anche il calcio Mamma mia Che aspetta Guarda Mi ti riesco a partire Tu Ma che cosa stai Lei non può trattarmi così Ho un regolare contratto Voglio il mio dinero Allarme e gite a borsa Devi pagarmi fino al punto Che credo Cos'è stava di cacarci Allora il mio dinero E il mio diritto Sta bruciando tutto Guardi lei Signor sindaco Ma lui che cosa fa? I giocatori I dirigenti I giocatori cosa fanno? Spaccano la legna Tagliano l'erba Ammucchio le fassine Ah li sta rovinando Li porta come se fossero i contadini Ma dopo tutto non sa mica degli avvocati E muoviamo l'assassi Se non è mica caso di fare dello spirito sai Sono degli atleti Che il mister ha costruito giorno per giorno Sia fisicamente che psicologicamente Lo sai che se l'idea non fosse di quel pazzo là Come metodo sarebbe tutt'altro che sbagliato Se tutto il calcio italiano adottasse questo sistema Nelle partite di campionato vedremo molti più gol E si incrementerebbe l'agricoltura Si fateli spiritosi voi altri Quelli non seguono più nessuna dieta Ma l'ha detto io il figlio del fattore Mangiano tutto come dei lupi Si si tagliatelle Caperetti, agnalotti Lasagne Ravioli Tutti i carboidrati Due, trecento punti al giorno Un vero disastro Ma lo sa signor sindaco Non mi ha permesso di controllare i giocatori Ma ha cacciato via Ne vuol sapere un'altra? Ieri il telefono faccio Dico siccome domenica giochiamo in casa Vengo su che porti i ragazzi a messa Lo sa cosa mi ha risposto? Non importa che si disturbi Leverendo Perché c'è il parroco di Tredozio Che la messa la dice benissimo E la messa nuova anche meglio di lei Si bisogna portargli via la squadra Prima che lo rovini completamente Però sarebbe meglio per lei Signor sindaco Così il borgo russo l'anno prossimo Lo prende con un boccone di penne Bravo E mi piglia la squadra a pezzi Con dei giocatori svalorizzati Ci dovrebbe fare in fretta A togliere la squadra Dalle mani di quel pazzo E lasci che si frighi nel suo brodo Fra due o tre domeniche al massimo Quello lo cacciano via A fior di popolo Ho tutti proprie Hai ragione Ho tutti proprie Non ti emozionai Mettere 160 Ma perché gli altri fanno la forza? Non ho visto la tattica da seguire. L'uomo è che è libero, è pomani. Frigella, Frigella, Frigella. Per Dio, ma che vuoi? Mi posso spogliare? Ma che ti puoi spogliare? Guarda qua, non ho più i coglioni. Sta a sedere. E' sito. Frigella, 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 Frigella. Dai, dai, ragazzi del Borgo Rosso, dai! Marcate l'avversario, energia, violenza! No, no, soldati! Che fate, le belle caduine? Perché non entrate sull'uomo? Attaccatevi per lì, aspettatevi il terrore! A noi, Arbitro. Non si è mai visto, Paolo, che panchina! Mai, mai! Manchi di chiamare persino d'all'arma! Un incitamento per questo, Sfira. E se non è una partita nei calci, è una corrida, una corrida, ma che... Va bene, basta, capito. Poi si lamentano se non gli dice cornuti. Andiamo a parte. Forza! E lasciala, non innamorarti della palla. Cerca di passare in profondità, ma perché temporeggiano? Perché non scattano di più! E per Dio dove gli centrare! Dai, sfogliati che ti fa centrare! Sfira! 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 Ecco! Ecco il sistema tattico! Sfira! Hai visto che roba? Trove da matti! Santimi, non ho mai scennato neanche da strugiere! Lo vede cosa si può sceglie quando si vede un po' così? Segnano anche i versini! Sfira! Poi passa la palla! Poi azione! Scatta in avanti! Due, due! Non incollarti la palla! Basta! No! 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 Non puoi resistire allo scherzato la fin del distosto! Ma la Lega Cassio mi farà pagare tutto il mio contratto! Scusate! Ma la che per un uomo così veder giocare a football in questo mondo deve essere veramente uno strazio proprio! Si, però strazio, uno strazio stiamo vincendo! Come vedi? Voi devo scherzare? Contro uno strazio così vinceremo anche i ragazzini di loro tolto! Voi ragazzi del Borgo Rosso, dategli addosso! Spezzategli le gambe! Hanno capito, lo schema funziona! Andatelo attacco! Go! 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 E da oggi per ogni vittoria il premio sarà raddoppiato! Non mi ringraziate, sono io che ringrazio voi! Felice notte ragazzi! Dormite sereni! Distendete i vostri nervi! Rilasciatevi! E se avete voglia di fottere, fottetevi il pallone! Sognate! Sognate soltanto di odiare l'avversario! Chi si estranea dalla lotta? È un figlio di un anio! Buonanotte! Danone vai! C'è tua moglie che ti aspetta! Vado! Bella cara! Ciao amore! Oh, ciao cara! Oddio! La vacca! Chi va là? Mamma mia! È il presidente! Scampo! Vai via vacca! Mamma mia! Chi c'è qui? Sono mi presidente! Sono la signora Zanon! Brava signora Zanon! Avevo bisogno di parlare con mio marito! Poteva telefonargli no? Sa, per telefono certe cose non si può dirle! E soprattutto non si possono fare, vero? Signor presidente, mi parlo anche a nome delle altre mogli! E abbiamo diritto anche noi di festeggiare la vittoria! Signora! I giocatori a quest'ora devono dormire tra le braccia di Morfeo, Aio! E non tra quelle delle mogli! E fra quelle delle mogli? Ci metta un orsacchiotto! Lei mi prende per un cinico, vero signora? No! Io sono il presidente, come tale devo imporre alla squadra una disciplina di ferro Per la gloria dei giocatori, vostri mariti! Ma come uomo, sono pronta a qualunque sacrificio Per la pace delle mogli! Me lo aveva dito la signora Guardavaccaro Che l'Elas è così gentile e cortese! Solo questo le ha detto? Finalmente una vittoria! E' il Porto Rosso! 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 E senti come applaudono, imbecilli! Ti brucia eh, che hanno vinto anche senza il tuo stregone Sentiamo Gianni Brera Prima di tutto io non sono Gianni Brera Sono uno sportivo ed un onesto cronista E poi vi dico che noi dovremmo tutti quanti piangere Sulle sorti della nostra squadra Abbandonata nelle mani di un maniaco incompetente! Sì! C'è un culo, un culo che fa schifo! Mai visto! Quanto ha ottenuto? 87 milioni Ah, bene! 30 milioni a 4 mesi data La ringrazio sentitamente Vale, vale! Osegui a papà Presenterò La casina di Tredazio 17 milioni L'ipoteca sui muri della cantina E sui due piani della casa 21 milioni e mezzo Bene ragioniere Compili lei gli effetti Io alle 4 ho gli allenamenti Ci vediamo questa sera a casa Va bene, professor Lo sai anche tu, no? Quello lì finisce l'ospesio Mister, vorrei sapere da lei una cosa Tutti questi successi Si devono attribuire la fortuna o no? Sicuro Dopo il periodo di Iello quando c'ero io Dovevo venire il periodo di culo Sicuro, sicuro E lui si attribuisce tutti i meriti delle vittorie E lo ruba a me Ma io prenderò tutto il dinero Avanti Questo è l'atto di comparizione Ma il professore non c'è adesso Lo lascio a lei Nome? Quintino Ragioniere Quintino Braglia Appena viene il professore riferirò A tempo 48 ore Buongiorno Avete soltanto 5 minuti per pareggiare Salta l'attacco Figliacchi Tre vittorie du pareggi Potiamo vincere il girone? Mi meraviglio in sommo grado Come dei competenti come dite di essere Possono menar vanto per certi successi estemporanei Saranno anche temporanei ma 8 punti in 5 partite sono 8 punti Eh, ma se in 5 partite avete segnato 6 gol Avete? Ma chi sei, bulgaro? 8 sono Non 6 6 sono, uno è stato un out goal e l'altro su calcio di rigore Perché il calcio di rigore l'ha tirato l'arbitro? No, se vogliamo parlare da sportivi dovete riconoscere che i pareggi e le vittorie sono dovuti a una serie di circostanze favorevoli e difficilmente ripetibili Ma chi se ne frega, l'importante è vincere Eh no, caro Saccice, tu stai pisciando fuori dell'orinale Con il sistema tattico inventato da quel mettecatto non ci giocatori che sappia qual è il suo ruolo È il gioco moderno Ma non dire castronerie, va là Ad ogni modo domenica nel derby contro il Sangiovese vedremo Chiara Piore Eh, lo vedremo si purtroppo Domenica sera piangerete lacrime amare Ma va là La verità è che il Presidente vi ha trattato come tante pezze da piedi Voi e quel buffone del vostro stregone Hop, 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 hop Dammelo piedi. Dammelo piedi. Dammelo a cocci. Dammelo a cocci. Dammelo a cocci. Andiamo. Fratto da dentro, sfragno il limone, scozzo la polla e taglio il portino. Chiude buona la porta, se no esce lo certo. Ma l'occhio non mi venga, taranto la buce di culo da lei. Ma l'occhio non mi venga, taranto la buce di culo da lei. Saladino da bere. Dunque, il padre, che era attivo dalla testa ai piedi e che per via dell'infarto gli avevano proibito la carne, lui mangiava le bistecche soltanto due volte l'anno, no? Una volta il Vede di Santo e un'altra volta il giorno dell'ascensione. Dico, il padre, prima del dermico sangiolese, ha sempre portato la squadra alla Madonna di Pratobello. E abbiamo sempre vinto. È vero o no? Sì. Figlio. Cresciuto dentro il Vaticano. Volete sapere dove ha portato la squadra? Al santuario del Monticino. Dalle monache del Poggio. Dai frati Cappuccini. Tagli zingari. Nel fosso della morte a fare gli scongiuri. Sportivi, il vostro tonico è Fernet Branca. Fernet Branca di gestimola. Sportivi, entrate nel giro di gancia americano. Gancia americanissimo. Lo so, ragazzi, che voi farete di tutto per portare alla vittoria la nostra gloriosa Borgo Rosso. E so anche che non avete bisogno di sollecitazioni, diciamo così, economiche, ma non vi dispiacerà sapere che in caso di vittoria qui è pronto per voi un milioncino. Senti, io non me son contento. Occhio alla vorrei. Senti, io non vedi. Ma l'occhio non mi venga. Sarà dobbiamo fuori che ci vuole venne. Ma l'occhio non mi venga. Sarà dobbiamo fuori che ci vuole venne. Venga venne. Ricordate che al volto di un uomo che sa quello che vuole c'è sempre un globa, l'orologio dell'era scottiale. Fai il triangolo, continua l'azione, lungo la linea, attenta l'avversario, passa l'ala, ecco, bravo, così fai la discesa, incollati la palla. Torni al suo posto, sarà costrita a Speller, su, svelto. Sono perfettamente d'accordo. Torni in panchina e usaci più, ha capito? Sto andando. Vieni. Presidente, da buon portamento. Vieni. 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 Presidente, da buon portamento. Celestino, sfogliati, che entri Subito, signor Presidente Vieni qui, mettiti nei ginocchi Chi si estranea dalla lotta E' un figlio di una mignota Che te sei messo in testa? Il sudore Ma come, devi ancora cominciare a giassuti Difendi la porta, d'oggi il costo, vai Ma che fai? Mi spinge, poi mi chiede che faccia Tipo normale, impopota, ma difendi la porta, d'oggi il costo Sì, sì, è questo grosso che entra Speriamo in lui 22 milioni mi è costato, 150 mila di al chilo Bravo Celestino Dai Celestino Difendi ad ogni costo, bisonte Bravo Celestino Oh, è un muro col petto Ma che fa, questo è Vicente Farò la palla con le mani Rigore, rigore 22 milioni mi hanno pagato Ma che pallone, via Eccolo qua, il pallone Ma, e sei sgonfiato? Che cosa vuole? Pallone, svelti Via Senta magica, aiutami tu Ma l'occhio non me venga, tarantro Ma l'occhio non me venga, tarantro Che fa, che fa l'arbitro, lo fa ripetere? Arbitro c'incurnasse Arbitro Avernudo Salza il sclavone Ma è giusto, Presidente E testa si è mosso Ma che testa? Che è mosso? Perché si è mosso testa? Arbitro, c'è proprio un burcato E' una consigliura Ancora un po' di calma Una zingara malefica Io te ne ho, tarantro Bossa via Eccolo la fortuna Vada da quel gestione Gli dica che lasci la difesa E vado il centro attacco Distrugge l'avversario Vada all'attacco Corri Celestino Celestino Che fai? Sceno Celestino Vai sotto Celestino Vai all'attacco Starravaggili Lasci fare, lasci fare Che va le distruzioni Vieni in panchina Non senti l'arbitro Corvo Tanto sempre a lutto Deve vestire quello Ecco Fanto, Presidente Starravaggili l'avversario Passate la palla Celestino Avevo ragione io Dimmelo Non è un caralmato Ma che Me l'hanno bloccato Fischia contro Fernudo Oh che fa Mi dispiace C'è più a te Mi scuso con lei Ma che fa Questione Che fa Lei arbitro Lo ammonisce Fuori 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 Non fa E tu c'è Ma perché ti scusi Lei lo ammonisce Lei non capisce niente Di calcio E' la seconda volta Che vi faccio questo Lei sta umiliando Il giocatore Sono il Presidente Perito Fornaciari Non mi metto le mani addosso Vada via E giù Io sono il Presidente Perito Fornaciari Vi appello a voi Ma perché Dobbiamo sopportare No No Che fate Prendi Fermatevi 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 Aspettate Che fate Siate buoni Siete impazziti Aspettate Ci squalificano Ascoltatevi Fatevi retti Amici Ci squalificano E' la fine E' la fine Del parco rosso Vi prego Siete impazzati Adi Segui E' la fine Siate impazziti Vi 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 Grazie a tutti. 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 E non mi riferisco soltanto alla parte economico-sportiva o le multe, ai danni, al fatto che gli incassi della squadra che giochi in campo neutro non riusciranno neanche a coprire le spese dei trasferti. Senza contare il morale dei giocatori. Ma me ne frega assai dei giocatori. Scusi, Monsignore. Il professore ha firmato più di cento milioni di cambiari. Ora, finché le cambiavano nelle mani delle banche, si poteva rinnovare. Ma da quando il commendatore Bulgarelli le ha rastrellate quasi tutte, qui o si paga o si falisse. Capisce, Monsignore? A questo siamo arrivati con le pazzie di mio figlio. E che cosa propone questo commendatore Bulgarelli? Il commendatore Bulgarelli si è dimostrato molto comprensivo anche per la vecchia amicizia che lo legava al defunto Presidente. Lasci stare i preamboli e venga al sodo. Il commendatore propone una decurtazione del 20% e il rinnovo di tutte le cambiali. Sei venito a cedere la presidenza. Lei è una ferita, io e con il vecchio sport veni cosa. Ma come si permette lei? Non sono cose che vi riguardano. Ma certo, sono cose che non si riguardano. Siamo in questa casa soltanto da 30 anni. Comandano loro che sono arrivati da tre giorni. Mi rivolgo a lei, Monsignore. Cerchi di convincere mio figlio. E gli dica che se rifiuta, lo faccio interdire. E' un complotto. Benito, aprimi, sono io, Monsignor Montanari. E io sono il Presidente Fornaciari. Chi si crede di essere lei? Io non accetto imposizioni da nessuno, nemmeno dal Papa. Ma io non voglio importi niente. Voglio soltanto parlarti, due chiacchiere così, trasportivi. No! Io non parlo con nessuno! Cerca di ragionare, caro figliolo. Io non sono il suo figliolo. Sono figlio di mio padre. La presidenza del Borgo Rosso io non la cedo. Glielo dica mia madre che se lo mette bene in testa. Mi ha tormentato per 30 anni, ora basta! Il Borgo Rosso è mio, 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 mio! Io sono il Presidente! Benito, noi avremmo deciso di... Mentre voi state discutendo fuori, si stanno ammazzando! Stanno ammazzando? Come? Benito, dove vai? Fermati, Benito! 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 Salciccio si brucia! Si brucia con il mondo! Non andai, basta a casa! E mi piace di che! Fermati, vai! Fermati! Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto, Salciccia? Lasciatemi! Voglio bruciare anch'io! Perché mi devi andare? Ti hai creduto, eh Romano? Credi che mi bruciavo? Noi ti bruciamo a te se non te ne vai! Avrete il Presidente che meritate! Tutti! Mamma, andiamo via! Torniamo a Roma! Oh, ragazzi, eccolo, sta andando via! Ora è stata via, è spattata! Ecco qua! Vai via! Vai via! E non tornare più a vita! E non tornare più a mano! Vattene a casa! È vero che lascia la Presidente del Bordorone? Non solo quella, tutto lascio! Non sentirete mai più parlare di me! Suo padre non si sarebbe mai areso! Ma suo padre era un uomo che sapeva quello che voleva! Lei non è degno di essere suo figlio! Ma se siete tutti contro di me! Tutti! E questo non è vero, signor Presidente! Questa mattina, quando abbiamo saputo che lei rinunciava alla Presidenza, abbiamo pianto! Non si arrenda, Presidente! Difenda il Borgo Rosso! Bianco neri del Borgo Rosso! Rosso, 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 rosso! Bianco neri del Borgo Rosso! Rosso, 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 rosso! Bianco neri del Borgo Rosso! Signor Almiglia, il Presidente va via! Non credo! Bianco neri del Borgo Rosso! Rosso, 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 rosso! Bianco neri del Borgo Rosso! Amici del Consiglio, soci e socie del Borgo Rosso Football Club, un'ora grave batte sul campanile della storia della nostra gloriosa società. Voi tutti siete stati testimoni di quanto è accaduto dopo la dolorosa scomparsa del nostro grande Presidente, alla cui memoria vi invito ad osservare un minuto di religioso silenzio. Non si vede nessuno! Dai, dai! Seduti! Il Professor Benito, per la sua incompetenza e di suoi errati sistemi di allenamento, per i suoi cervellottici schemi di gioco, ha portato il Borgo Rosso Football Club in una situazione drammatica. Pertanto, pertanto, il Consiglio, sia pure a malicore, ha chiesto ed ottenuto le dimissioni dell'attuale Presidente, dottor Benito Fornaciari-Valli. Silenzio! Il Consiglio, certo di interpretare i voti di tutti i soci, ha offerto la Presidenza al nostro Sindaco, il Comendatore Aristide Bulgarelli. c'è un'attuale Presidente, una scala di video, un'attuale Presidente, una scala di un'attuale Presidente. Un'attuale Presidente, una scala di tutti i soci, ha fatto la Presidenza al La faccia del Borgo Rosso Football Club Voi tutti conoscete la mia modestia Bella faccia di Ghira Ho esitato a lungo, prima di accettare la pesante eredità che mi è stata offerta Ehi, non arriva La presidenza del Borgo Rosso Football Club Va fuori Cosi come ho risanato il bilancio del comune Aumentando le tasse E vendendo sui forzi al comune Ridandone la vostra generosità Mi adopererò a risanare il bilancio del Borgo Rosso Football Club Bravo, bravo, bravissimo Non ci resta che passare alla votazione per alzata di mano Chi è favorevole alla nomina del comandatore Aristide Bulgarelli A presidente del Borgo Rosso Football Club Alzi la mano Un momento Cosa c'è? C'è Che vorrei parlare anch'io Credo di averne diritto Sono un socio a Vitalizia e benemerita Sì, sì, parli pure, ma sia breve per favore Dunque, io volevo dire Se risaliamo alle origini del Borgo Rosso Se deve dire qualcosa sia succinta, ha capito? Sì, ho capito E ho capito anche che lei e qualcun altro Vorreste che io non parlassi? Ma falo finito, Ermiglia, lascia su te Eccolo Voi voleste votare? Finito, avete ragione Finito, sta arrivando, è qui con la Maserati Raccontacelo un'altra volta Bene, ho finito E allora possiamo passare alla votazione Chi è d'accordo, alzi la mano Amici Sono io Permettetemi Voglio chiedervi scusa per questa mia interruzione Scusatemi Uomini e donne di Borgo Rosso Per questo mio ritardo all'Assemblea straordinaria E anche a lei, signor Sindaco Mi scusi Io ero partito E non volevo più tornare Ma poi ho riflettuto e mi sono detto Che forse la mia assenza Sarebbe stata da voi interpretata Come un atto di diffidenza e di rancore No, amici Niente di tutto questo Voi lo sapete Io ho sempre amato la squadra del Borgo Rosso Football Club Con tutto il mio cuore Evviva il Presidente E se ho mancato, amici È stato per eccesso d'amore Ed ora, amici miei Prima di dirvi addio per sempre Permettetemi di offrirvi un piccolo dono E sono certo che lo gradirete da quei grandi ed esperti sportivi che siete Per giocare con noi E riportare il glorioso Borgo Rosso alle sfolgoranti vittorie Ho fatto tornare dall'America del Sud Vivo, vegeto, in carne ed ossa A Marsimori Grazie al vostro Presidente sono nuovamente in Italia Felice di giocare davanti a questo pubblico che tanto amo e che è il più generoso del mondo E da oggi, amici A Marsimori è di proprietà del Borgo Rosso Football Club E questo, amici, il mio regalo prima di dirvi addio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Parangas datevi stare Buongiorno che sento con aligned Questa buffonata me lo pagherete cara e non presentate movSuica e non venite più a vendere la casa mia E tutto e vuoi Per quello cambiate E il Galera vi mando, il Galera tutti quanti È la rovina E' la rovina. Grazie. 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 31 e 32 botti. 32 botti da 125 quintali l'una. Chiudi l'inventario e procediamo al sigillo delle porte. Medaglione raffigurante Federico Barbarossa. Valore totale, facciamo 40.000 lire. Posso fare pulizia di sopra? Faccia pure, noi continuiamo il pignoramento. Va bene. Gabbia, antica, senza uccello, 30.000 lire. Andate via, andate via, è chiusa per fallimento. Vendita giudiziaria. 24 ettari di terreno coltivato a vigna. La azienda vinicola è fallita. Fulman e la Maserati, la casa con tutti i mobili, tutto sequestrato. Solo il letto ti è rimasto. Io l'ho sempre detto che ero un pazzo, come suo padre del resto. Borda del Borda Rosso. Bianco nero del Borda Rosso. Ma su questo. Bianco nero del Borda Rosso. Ragazzi, a sedere. Il serimento del nostro grande campione Oversivo li garantisce che il Borda Rosso, contrariamente a quello che fanno tutte le squadre italiane, compresa la nazionale e i campionati del mondo. Giocherà per fare i gol e non per far sentare. Viva gli Anzolani. Viva il Borda Rosso. Viva la Romagna. A sedere. Andiamo. Passa la vittoria. Però a fare che qui a Sivoli sia ancora molto forte, un vero castigo di Dio. Non nominare il nome di Dio in vano, va la la. Ah, che fotte. Ieri in allenamento ha dato spettacolo, ha segnato tre reti. Ah sì, è proprio vero. Ora sapete cosa vi dico, che uno spettacolo così non me l'ho aperto. Benito, aspettami, vengo qui. Ale. Ragazzi, ieri ho ricevuto un telegramma da un'alta personalità del Vaticano, Monsignor Montanari. Ecco il testo. Ti disereto, lascio tutto ai pallottini. Non sono più tua madre. Scusate ragazzi, ho sbagliato il telegramma. Benito, benito, ci sono anch'io, sono con te. Se te vogliono un frizzo, non con me. I bianconeri del porco rosso. Stiamo con te, Benito. Con te. E che porco rosso, 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 rosso. E che porco rosso, 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 rosso. Ragazzi, ecco il telegramma. Ottenuta benedizione, santo padre tua diretta squadra. Punto. Unisco, umilmente alla sua benedizione, la mia. è sempre il gioco più bello. Faccio il presidente e non mi importa niente. La mia sola vera passione è formare un grande squadrono e il borgo rosso sarà sempre più degno del mio papà. La mia sola vera passione è formare un grande squadrono e il borgo rosso sarà sempre più degno del mio papà. La mia sola vera passione è formare un grande squadrono e il borgo rosso sarà sempre più degno del mio papà. La mia sola vera passione è formare un grande squadrono e il borgo rosso sarà sempre più degno del mio papà. La mia sola vera passione è formare un grande squadrono e il borgo rosso sarà sempre più degno del mio papà.